che dici c'ho 38 minuti di filmato, gliela faccio e viagli tutti 38 minuti di filmato, gliela faccio no non ce la fai, guarda c'è qualcuno giù che boccheggia ancora ma prima l'ha vista io lo prendo a sassate posso lapidare? guarda che c'è l'audio Fabio mi vado giù ma è che è tanto spinto e l'hai lapidato c'è una carenza di ossigeno, come torpado hai fatto lo strappetto piglio due volte ma ti ti hai messo a tirare o non ce la voglio essere? la seconda che ho detto la aprivo ma comunque prima ho faticato un pochettino stai tirando il rapportone in solita il fatto è che qui il rapportone quando ti fermi è un bordello guarda che bravo Ugo Ugo quando c'è davanti c'è nessuno spingi sul rapportone e te fermi ma quando sei bloccato vai 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 guarda che arrivi uno eh ma no guarda che stai lenta che scende ma lenti mi hai sentato avanti se non sbaglio va ma lenti mei andai davanti ma allora c'è stanno allora ci sono i corbisciolinghi io lì c'ho una pianta a stiminzire non riescono a mangiarmi in Sardegna vanno a settembre io l'artanno sono venuto qui a settembre all'inizio non c'erano qua a fine settembre in Sardegna vanno qui in Sardegna sotto questo periodo sotto il corbezzo queste due sono buone ma tre sono diaretiche sotto ci fanno gli ovuli in Sardegna in Sardegna sotto il diante del corbezzo cioè ci fanno gli ovuli gli ovuli, i funghi, in questo periodo quelli benefici, no? dipende da quanti te ne mangi tutte le cose te ne mangi troppe però hanno mangiato un chilo di melograni coperto i corbezzoli hanno trovato una piantina bella matura mi hai fatto consumare cinque minuti di video un po' di video è una pianta bella di fornita e magnateli tanto sono gratis